Anni 90, quando ancora non c'è stavano i telefonini, una ragazza va in viaggio di nozze, scrive una lettera alla madre e scrive mamma, ho sposato un uomo, è malato di sesso, poi le fa sesso tutti i minuti, tutte le ore, faccio colazione e mi prende da dietro, faccio il pranzo e mi prende da dietro, andiamo in qualsiasi posto e mi comincia a scopare, dappertutto, scusa mamma poi la scrittura tremolante ma anche in questo momento...